2.0 significa essere al passo con i tempi e sinceramente dopo 33 anni di carriera essere ancora sul pezzo come si dice in gergo è per me una grande gioia nel senso che ho cercato di mettere dentro lo spettacolo argomenti sempre attuali che possano interessare il pubblico con tanti tipi di comicità. All'interno di questo spettacolo c'è satira sociale, satira di costume comicità di situazione di battuta ma si riflette anche ci si diverte è uno spettacolo completo uno spettacolo per ristorare e oggi ne abbiamo veramente bisogno bisogna divertirsi e questo spettacolo fa questo il suo compito è divertire il pubblico dentro veramente c'è un Cirilli altro che 2.0 io direi anche 5G non so più quale termine inventare per dire che all'interno io canto, ballo, recito, vi faccio anche commuovere vi prometto che vi strappo anche una lacrimuccia e quindi giustamente quando si provano tutte queste emozioni insieme in un'ora e cinquanta di spettacolo è veramente veramente gratificante per me che sto sul palco e per voi che siete giù questo scambio di emozioni mi gratifica sempre mi fa capire che ho scelto un lavoro utile è un lavoro importante e soprattutto il mio lavoro e infatti il video ve lo sto facendo dalla macchina perché appunto io sto sempre in giro mi sono soprannominato Ciri Raider ci vediamo il 4 dicembre al teatro Giuditta Pasta di Saronno mi raccomando ciao